Salve a tutti ragazzi e bentornati da MyShowsha, sono la mia ragazza Ambra Futura moglie, futura moglie Ambra Dottissima come è Ciao Eh beh è così E oggi ragazzi è un video veramente speciale perché è il mio compleanno UUUUUUUU Fatemi gli auguri sotto nei commenti Oggi siamo qui appunto per festeggiare questo compleanno tutti insieme Ma quest'anno sarà particolare Perché ho scelto di rispondere alle vostre domande Che però ho selezionato io UUUUUUUU Per te Perché ragazzi questo è l'ultimo compleanno da scapolone Magari scapolone che sono fidanzato tutti da 9 anni Quindi ragazzi vi ho chiesto di lasciare delle domande sul mio profilo Instagram A proposito seguitela su Instagram Lo trate qui Il mio Instagram c'è anche bug C'è bug? Sì c'è tutti i bugs E voi ovviamente non è che vi siete trattenuti Nooo Avete cominciato a scrivere le peggio cose tipo O quante ragazze hai fatto l'amore oltre ambra Ragazzi ma è chiaro che se voi fate queste domande Cioè io non posso rispondere no? Cioè nessuno prenderà in considerazione Vabbè però potresti tipo rispondere con quante ragazze sei stato oltre ambra Eh però non l'hai scelta Rispondi Ma perché? Cioè scusa Ma perché non Ma da quale risponde perché nessuno Nooo Eh che sia È vero È vero Hai mai pensato di lasciare ambra? Non lo so Dai come non lo sai? Su dillo non ti succede niente siamo tra amici una risposta sincera No E com'è con la pupilla allargata? Eh Però No lei mi ha pensato in questi ragazzi Nooo Non lo so Non lo so Dai ma tu Mi ce sta a fare Oh mi ce le devi fare ripensare Potrei pensarlo tutte le volte che mi fa Oh no Non lo so Beh eh Cioè scusate se convivo con una bestia Cioè io ti ho il cane e un altro cane Hai mai amato qualcuno fuori da ambra? E dentro di te come faccio? Che c'hai? E Zoi? Vabbè Zoi ma quello è un amore canino Non è No no ragazzi unico amore Chi? Tu Ah pensavo alla Lazio Lui ha scritto qualcuno no qualcosa Qualcuno Qualcuno Poi ragazzi sai qualcosa che qualcuno ama in maniera Eh con le mani così io devi dire Eh Vabbè ma che stai detto sta succedendo Hai fatto così Ma io sono un bravo ragazzo Mi stai a mettere in bocca parole che non ho mai detto Allora dimmi qualcosa che è meglio lì fuori di me Ah Lazio Il mio lavoro Vabbè Cazzo Eh lo so vero Cosa hai pensato di lei quando l'hai vista? Melaioni Siccome io pensavo che lei di che un nome facesse tronconi Eh ho detto ammazza il cognome è subito questo E invece Betty è il cognome intelligente Betty Beh Ah intanto Tresilla Bella Intanto io quando ero più giovane devo fare Mi chiamo Betty Betty spaghetti Mi puoi montare e rimontare È sempre diversa Come vuoi tu Guarda le mie amiche E tutti i miei vestiti Guarda i miei capelli Come sono belli Cringe credo che si sia tagliata con un coltello così Eh ma aspetta perché questa è una bella domanda Ah Questa è una di quelle delle domande Che io le definirei Rapide Come è stata la vostra prima volta? Allora perché uno deve fare queste domande Ma io voglio sapere che ve ne frega Stai la vostra prima volta a te che cosa? Fa che cosa? Quando la prima volta siamo usciti insieme Gringe Come Gringe? Dai sono piuttosto imbarazzante se ti ricordi eh Ma perché tu eri imbarazzato Ah tu no No io no No? Ragazzi è la prima volta come in tutte le prime volte È Spiti Gonzalez che fa Andale andale arriva 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 E io praticamente sono stato Spiti Gonzalez Dopo che ha detto Andale andale Aspetta ma come è stata la prima volta pure con le altre? Quali altre? E' peggio trovare Ambra a letto con un altro O che Ambra trovi te con un'altra Come forse è già successo Ma cos'hai a ti? No è meglio che Ambra trovi a me con un'altra in generale Però se dopo succede questa mi deve stare a rompere Cioè immaginate quello che tu puoi attraversare no? Beh scusa ti trovo con un'altra a letto che non ti rompo No ti dico oh mazza bravo scusate me ne vado Chiudi la volta Preferisco che so io quello che tradisce Ma tu pensa l'imbarazzo Appunto Ah invece è bello che ti trovo a letto con un'altra Quello non lo sentirei Ma tu se però tu uomo potresti prendere a scazzottare quell'altro Ma perchè dove ne ha lui? Perchè se la donna tradisce Perchè è un motivo Eccola La relazione non funziona No l'hai capito Quindi fate la tecnica mia ragazzi Fatevi i cavoli vostri Che campate cent'anni per più Tu non hai capito che se tu a me tu mi tradisci Non è che tu mi devi sopportare a me Tu per me sei morto Quanto hai shoppato a Crash Royale ai tempi? Eh perchè ora li sto shoppato tutti su fifa e quell'altra roba Però ho fatto il conto di quanto ho shoppato nel 2017 su fifa E quanto hai shoppato? Te lo dico all'orecchio Vai Ma che stai lì? Te giuro Ma veramente? Si ho fatto il conto Ma che sei scemo? No Non è vero Te giuro Ma che sei tu la? Ho capito ma viviamo insieme ma puoi spendere tutti quei soldi Ma puoi spendere tutti quei soldi? C'abbiamo il matrimonio Si Vabbè nel 2017 non c'avevamo proprio niente E' uguale però tu lo progettavi già Perchè non sai quanti nuovi sono spesi nel 2018 Eh beh bene Se dovessi scegliere tra me e Chiara Ferragni Perchè qua dice il nome di una top model che gli piace E lui la segue Che vuoi dire? A parte dei Chiara Ferragni siete uguali Io e Chiara Ferragni siamo uguali Vabbè va assomigliato però Ragazzi a parte lei seguo solo due ragazze Uno è Chiara Ferragni E l'altro? E l'altro è cosa? Amanda Serni Eeeh quello ti piace No non mi piace Mi piace il video Che dovresti scegliere tra me e Amanda Serni? A te Te prego Te giuro Dammi il polso A te A bugiardo E' vero E' vero ragazzi perchè io penso no A parte Chiara Ferragni io non conosco però Perchè l'altro si Però adesso tu dimentico Belen Ma come la mantieni Belen? Comunque no ragazzi io scelgo sempre Ambra E' Ambra che si gli dice Ma non ci credo Chi gli piace? Marchisio Non mi piace Marchisio Non ti piace Marchisio? No non mi piace Non mi piace Ti piace Thor? Si chiama Thor? E come si chiama Thor? Si chiama Grim's Hemsworth Si Grim's Hemsworth Ti piace Marchisio? No Senti Ma che vuoi dire Ragazzi siamo arrivati all'ultima domanda finalmente Perchè basta In realtà io ne avrei altre salvate Però lui Qual è la cosa che Ambra fa? L'azione, l'atteggiamento, le frasi Che ti irrita E qual è stata la prima che ti ha colpito? Io che l'ho picchiato Ragazzi questa la devo dire Non mi frega niente Se poi adesso discutiamo Senti di fuori sempre la stessa cosa Ragazzi Ragazzi Zitta Ragazzi Ambra Cioè bella, brava, buona, simpatica O che vi pare Però da Instagram non si vede Questa cosa non si vede Ve la racconto io Perchè io ci vivo insieme Ogni volta che va al bagno Ambra Vi giuro ragazzi C'è sta mezz'ora Le 40 minuti Le ore dentro quel bagno Sta sempre col forno acceso Tutte le volte che va al bagno Uuuu E qual è il problema? Uuuu Pare che pure loro ci stanno come me Ma che sa di Voi quando andate al bagno Accendete il fono Si, si, solo tu non l'accendi Ma lei l'accende solamente Allora Ragazzi E' giugno Le fa un caldo Che te mori Ma è rumore Che te soddisfa Te calma Ma che calma Senti allora io dico una cosa Io non fumo Eh Non bevo Non mi sono mai drogata in visita Eh però mi ma quanto rompi le valli Ma tu ragazzi Ma lo sognano o no Ma perchè che mi si andrà fuori A parte la bolletta Quando è arrivata Ragazzi ho due mesi Non è vero Quello era lo scaldino Perchè lui mi ha detto So quattro mesi regà Che pago 180 euro di bolletta Però vabbè Ma perchè dici sta cazzo Adesso la gente Non ci crede Ma ci deve credere Vero Vabbè ragazzi Questa era l'ultima No non va bene Perchè io se non accetti questa cosa del forno Non te posso sposare Perchè io accetto Ammi ma scusa Ma tu se non accetti le smentela Non te posso sposare No io non posso Ammi Guarda a un certo punto I soldi finiscono Si certo Lui però che sta qua Che shoppa Che fino alle 2 di notte Ai vicini di casa Gli fa salva a tutti Eh lo faccio Ragazzi lo faccio Lo faccio Perchè devo pagare le bollette Però come ogni compleanno Ci starebbe bene un tanti aguri a te Però siccome ragazzi Mi sta facendo fare una dieta povera Di zuccheri Quindi non solo il forno Pure le diete Non ci abbiamo dolci a casa Quindi come possiamo fare il tanti aguri a te Ci ho pensato io Aguri minciolo Tanti aguri a te Tanti aguri a Mike Tanti aguri a te Aguri Io vi ringrazio per tutti gli auguri che mi avete fatto sotto i commenti e sui vari social Anche se in realtà è in anticipo Quindi non so Magari non li fa nessuno Ma infatti No però ragazzi ogni anno Insomma mi mandate il vostro calore Il vostro supporto E' veramente una cosa bellissima questa Uno non riesco mai a rispondere Ovviamente a tutti Però ragazzi grazie Grazie mille Ringrazio i miei ragazzi Ambre Per essere stati in mia compagnia Per aver scelto delle domande Proprio easy E ringrazio voi per aver fatto proprio quelle domande giuste Che proprio per niente imbarazzanti Aguri vinciolo Ti abbiamo fatto una festa E non so Zoe che mi devi dire 50.000 mi piace Facciamo la stessa cosa Però con io Che sceglierò le domande da fare Ambra Le vostre domande Un saluto a tutti a Mike Shosha Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao Il bollo ma la bolla Il passerò la passerà Ma tutti quanti amano Mike Shosha Tutti quanti amano Mike Shosha Mike Shosha